In quest'ultimo mese hanno abbattuto più di 40 nostri mezzi. Non possiamo perdonare questo miserabile nemico che ha distrutto il settore Thunderbolt, la nostra patria. Adoro i Mobile Suit, così come lo spazio e la battaglia. Tari, riesci a colpirlo? Io non posso prendere la mira da qui! Io sono il capo Daryl Lorenz. Ti terrò costantemente sotto mura. Io sono il sottotenente Hugh Fleming. Quando sentirai del jazz, sarà il segnale del mio ormai. Restituiamo assai fuori a Moore la sua gloria. Morta ai codardi di Zion! Per la miseria! Ma che accidenti ero? Così è questa, la vera potenza del riuso di Psycho Device. Con questa configgerò il Thunderbolt!